Da bambina avrei fatto qualsiasi cosa pur di avere un animale a casa, però venivo da una famiglia dove gli animali non si tenevano in casa, si tenevano nel cortile. Ricordo che quando andavamo a visitare mia nonna in un minuscolo paesino nell'entroterra sardo, lì c'erano gli animali, ma erano animali il cane tenuto con un metro di corda legato al muro che oggi avrebbero arrestato tutti, ma in quel periodo gli animali si tenevano così. Da mia nonna c'erano anche dei gatti che come in tutte le fattorie, in tutte le case di campagna erano lì con un ruolo ben preciso, quello di ammazzare i topi e gli altri animali pericolosi per l'aia. I gatti di mia nonna io li adoravo, erano cattivissimi, non si facevano avvicinare e ci dicevano sempre a noi bambini di non avvicinarci perché appunto non si facevano non si facevano accarezzare. E dopo mangiato io e mio fratello volevamo sempre correre fuori a dare gli avanzi ai gatti e mia nonna ci diceva sempre di non muoverci da tavola che adesso devo dire una cosa bruttissima ma la dico così come le diceva mia nonna non la so dire in sardo, la dico in italiano. Prima mangiano i cristiani e poi se ne avanza mangiano le bestie. In modo di dire che adesso ma qui adesso ripenso con sorridendo perché naturalmente dire cristiani significava dire il genere umano era inconcepibile per mia nonna pensare o per la cultura contadina di cui era espressione mia nonna era impensabile immaginare che potessero essere e potessero esistere esseri viventi esseri umani che non fossero cristiani vabbè almeno ci ha messo pure le altre confessioni non necessariamente solo quella cattolica. Perché dico questo? Perché adesso io un gatto ce l'ho, da adulta finalmente mi sono potuta permettere per me il lusso incredibile dopo aver trascorso tutta la vita sentirmi dire no gli animali non si tengono a casa e poi da adulta finalmente mi sono presa un gatto e da allora ho un gatto sempre ne ho avuto tre uno lasciato perché ho cambiato continente un altro lo stesso e adesso c'ho Mazinga che sta qui a casa però rassicuro tutti lasciati gli altri miei gatti in ottimissime mani con gente che aveva dei giardini meravigliosi. No volevo solo dire che a volte ancora mi sembra così impossibile il miracolo di avere un gatto a casa che trascorro anche dieci minuti a fissare Mazinga e a dirmi mamma mia ma è un essere vivente ce l'ho qui a casa Mazinga è qui con me e fa le fusa.